Dall'opposizione Fratelli d'Italia continua la sua battaglia contro il coprifuoco. Chi ama la libertà che si celebra oggi ci aiuti ad abolirlo, dice Giorgia Meloni. Ma la leader di Fratelli d'Italia dura anche rispetto all'approvazione del piano italiano sul ricoveri. Il Parlamento è ancora all'oscuro del testo e la sua denuncia, quindi l'appello ai presidenti delle Camere. Dopo continui rinvii il recovery plan non è stato ancora pubblicato. Lunedì il presidente Draghi lo illustrerà e lo invierà direttamente a Bruxelles, senza che il Parlamento possa entrare nel merito. Fratelli d'Italia chiede ufficialmente ai presidenti delle Camere di fermare questa procedura inaudita e garantire la democrazia.